glielo ho detto ieri sera dopo cena non riesco a farglielo ammettere il progetto glielo porto domattina se ti piacciono te ne compro due il ladro non è riuscito a rubarmelo diglielo appena vi vedete domani se hai l'acqua gliene dai un po' se me lo chiedesse glielo direi subito hai guanti stretti non può toglierseli dicendotelo mi sento già meglio i libri me li darai domattina a scuola tranquillo non devi preoccupartene di biscotti non ce ne sono più fateci trovare la macchina pulita glielo dico domani mattina essere stato bere bevuto chiedere chiesto conoscere conosciuto cuocere cotto muovere muovere mosso nascere nato piacere piaciuto piacere scrivere 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 stringere stringere stretto vivere 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 vissuto vissuto vincere vinto vinto vedere, visto, accendere, acceso, dire, detto Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono chalet. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Mio cugino sa parlare lo spagnolo. Io non conosco tanta gente qui. Tu sai dove è la stazione dei bus? Noi conosciamo un buon ristorante. Loro non sanno il mio indirizzo. Tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città. So che lui si è diplomato. Noi non conosciamo il tuo collega. Io non so parlare il giapponese. Io non conosco il giapponese. Voi non sapete quanto ho pagato. Oggi ho conosciuto molti studenti. Tu sai come si cucina il pollo. Mia zia conosce una ricetta buona. Tu non conosci nessuno di Napoli? Lui non sa quanto guadagno. Non so cosa ci sia in quella busta. Ho visto un uomo che non conosco. Il cane sa prendere una pallina. Claudia non capisce la lezione. Neanche io capisco la lezione. Voi andate in vacanza domani. Anche noi ci andiamo domani. Lei gioca a calcio da molti anni. Anche tu ci giochi da molti anni. i miei cugini non aspettano mai. Neanche voi aspettate mai. Io telefono spesso a mia sorella. Anche lui le telefona spesso. Tu giochi molto spesso a calcio. Anche loro ci giocano molto. Lei non va mai a letto alle 10. Neanche tu ci vai mai alle 10. loro non vogliono mai il gelato. Neanche noi lo vogliamo mai. Luca non è andato al lavoro oggi. Oggi non ci è andata neanche lei. Voi dovete spostare la macchina. Anche tu devi spostare la tua. Io vado al cinema ogni sabato. Anche io ci vado ogni sabato. I miei amici non escono stasera. Neanche noi usciamo stasera. Tu mi mandi molti messaggi. Anche tu me ne mandi molti. Voi andate in vacanza d'estate. Anche loro ci vanno d'estate. Domani dovete alzarvi presto. Anche io devo alzarvi presto. Non ci piacciono i piatti freddi. Non piacciono neanche a noi. Lei non può uscire di casa oggi. Neanche noi possiamo uscire. Io non so chi ha fatto questo. Neanche lui sa chi è stato. Voi avete già finito il lavoro. Anche loro lo hanno già finito. Luca non dice mai dove è stato. Neanche lei ce lo dice mai. Cosa metti sul tavolo? Ci metto un vaso. Mangi spesso qui? Ci mangio ogni sabato. Come stai a Napoli? Ci vivo molto bene. Cosa ne pensi di tutto questo? Non ci vedo niente di male. Hai sentito la storia di Luca? Sì, ma non ci credo. devi uscire con Claudia? No, non ci devo uscire. Ci sono i biscotti? Sì, sono in cucina. C'è già la pioggia? No, non ancora. Quanti studenti ci sono? Quasi cinquecento. possiamo mangiare tutto? No, loro ci vedono. Dove andate tutti? Lisa ci ha chiamato. Cosa dicono i tuoi amici? ci danno un passaggio? Cosa vi hanno fatto? Ci hanno fatto un favore. Perché loro sono qui? Ci hanno offerto il loro aiuto. Luca è di nuovo a casa? Sì, e ci ha portato dei gatti. Come state in Italia? Ci divertiamo molto. Quando vi svegliate? Ci svegliamo alle otto. Quando andate al cinema? Ci andiamo domani. Ce la fate a finire? Possiamo riuscirci? Ne avete discusso? Sì, ma non riusciamo a capirci. Siete entrati al museo? No, non possiamo entrarci. Invitiamo mio zio. Descrivete vostro padre. Racconto la mia avventura. Racconto la mia avventura. Presento mia sorella. Presentano le loro sorelle. Invitiamo le nostre amiche. Invitiamo le nostre amiche. Prendete i vostri libri. Descrivo i miei genitori. Presentano la loro madre. Chi amo mio padre? Chi amo mio padre? Questo è suo cugino. Ho perduto un mio caro zio. Oggi sono con i miei amici. è a cena con sua moglie. Tu sei veramente gentile. Può fare questo facilmente. Mi ha parlato freddamente. Il film è stato realmente bello. Ti hanno sentito perfettamente. Ho fatto velocemente i compiti. eventualmente vengo domani. Si mangia principalmente freddo. Non potevamo fare altrimenti. Mi sono fermato immediatamente. Guido sempre molto attentamente. Andiamo direttamente a casa. Ti sei mosso davvero agilmente. Me l'hai chiesto gentilmente. Rispondere. La risposta. Piangere. Il pianto. Ridere. Il riso. Leggere. La lettura. Scrivere. La scrittura. Spendere. La spesa. Liberare. La libertà. Salvare. Il salvataggio. Piovere. La pioggia. Rubare. Il furto. Lavorare. Il lavoro. Insegnare. L'insegnamento. Sparire. La sparizione. Tentare. La tentazione. Vedere. La vista o la visione. Deludere. La delusione. Esistere. L'esistenza. Cuocere. La cottura. Pungere. La puntura. Cadere. La caduta. Difendere. La difesa. Cantare. Il canto. Salire. La salita. Lavare. Il lavaggio. Il cane è nella sua cuccia. La macchina è nuova. Il quadro è molto bello. La finestra è chiusa. Il giornale è sul tavolo. Il limone è giallo. L'aula è luminosa. La mela è marcia. Lo zio di Anna è svizzero. La matita è sul banco. L'autobus è arancione. Lo zaino è pesante. Il cassetto è aperto. La poltrona è comoda. Il computer è acceso. Il gatto è sulla sedia. Grazie a tutti.